Siamo in diretta, come vi avevamo promesso, e abbiamo... Ok, allora, come vi abbiamo promesso, abbiamo istrici, taini, caprioli, è uno splendido tasso. Partiamo allora a liberare il più impaziente, che è... Eccolo. Sì, devo dire che ha gradito molto la sua libertà. Eccolo nel campo. Continua a correre. Perfetto. Apriamo anche gli istrici, che... Intanto noi continuiamo con questi bellissimi maschi, che avete visto nei giorni passati. Eccolo. Sì, devo dire che anche questo... Apri Caterine, senza stargli davanti. Eccolo. Saluta. Ringrazia. Ok. Adesso li facciamo uscire, gli istrici, perché... Ok. Piccoli andiamo. Un po'. Aprite il tasso intanto. Veloci. Ok. Apriamo un po' la gabbia, così va via. Apriamo anche loro. Portateli, portateli più avanti. Dai, su. Eh, è boccata. Ok. Allora, aiutiamo un attimo. Eccolo. 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 ma si riprende intanto lui non deve mica correre eccolo è andato dentro al borco ok qua abbiamo un istrice apri su piccolo finalmente sei libero non crediamo a tutto tantomeno che lanciano gli aghi perché non è vero ok apriamo l'oro eccolo non fare confusione ecco che anche questo se ne fa splendidi animali anche questi si aiutateli ok adesso facciamo uscire anche loro possiamo aprire l'acqua viene aperto no time no time su piccoli aiutate quelli lì girate un po così Silvio ti metti davanti l'ingresso dove andate? come corre lì? ecco un altro abbiamo gli ultimi tre che sono i più timidi attira eccoci vediamo la balla ok vai a portarvi a quella risa su piccoli avete visto che il dato è già lui? eccoci vediamo piccoli dammi una mano qua che li facciamo uscire ok e anche questo è il dato su piccolo si è rimasto solo te seguimo il tuo fratello e così abbiamo finito e mantenuto la promessa che avevamo dato noi vi salutiamo e vi aspettiamo sicuramente alla prossima e ricordatevi che noi per continuare a fare tutte queste cose qua viviamo del vostro 5x1000 dei vostri sostegni un saluto da tutti i ragazzi del poti rosso grazie 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 grazie